numero 5 navroof gps è un navigatore affidabile per camion che offre una soluzione economica per i professionisti della strada con mappe preinstallate dell'europa e la possibilità di scaricare gratuitamente mappe di altri continenti questo dispositivo offre una copertura globale senza costi aggiuntivi una delle caratteristiche più interessanti è il suo schermo touchscreen a colori da 9 pollici questo offre una chiara visualizzazione delle mappe e delle indicazioni stradali riducendo il rischio di distrazione durante la guida inoltre il navigatore fornisce indicazioni vocali in modo da poter seguire le indicazioni senza dover staccare gli occhi dalla strada trovi il link con il prezzo di questo prodotto in basso nella descrizione del video numero 4 o safe bluetooth è una scelta economica per coloro che cercano un navigatore affidabile con un grande schermo a colori leggibile da 9 pollici il display è antiriflesso rendendolo facilmente visibile sia di giorno che di notte tuttavia va notato che la precisione del percorso potrebbe non essere sempre perfetta è consigliabile assistere il navigatore nell'identificare i migliori itinerari pertanto se sei un autotrasportatore professionista che affronta continuamente nuove tratte potrebbe non essere la scelta migliore per te d'altra parte è un eccellente compagno di guida che fornisce assistenza e supporto puoi vedere il prezzo di questo articolo cliccando nel link in descrizione numero 3 drive tech navigatore gps è un dispositivo versatile e affidabile progettato per soddisfare le esigenze dei conducenti di camion dei viaggiatori in camper e di coloro che considerano un navigatore gps di alta qualità una delle caratteristiche più interessanti di questo navigatore è il sistema operativo android che lo trasforma in un piccolo tablet grazie al wifi integrato e alle numerose app disponibili è possibile utilizzarlo anche per scopi diversi dalla sola navigazione si può sfogliare internet controllare le email o godersi un film durante una pausa il display touchscreen a colori da 7 pollici garantisce una visualizzazione chiara e nitida delle mappe e delle indicazioni di percorso trovi il link di questo articolo in descrizione numero 2 il tom tom go professional 620 è un navigatore per camion che spicca per la qualità del suo schermo la sua visualizzazione touchscreen è reattiva e fluida e la luminosità è ottima sia di notte che sotto la luce del sole senza risentire di fastidiosi riflessi è possibile scegliere tra due opzioni di visualizzazione 2d e 3d la modalità 2d offre una visione più ampia del percorso generale mentre la modalità 3d è particolarmente utile in situazioni più complesse come zone urbane in cui è necessario valutare attentamente gli spazi di manovra se ti interessa questo articolo trovi il link in descrizione numero 1 il garmin dezel lgv 800 lmtd è sicuramente il miglior navigatore satellitare per camion sul mercato è l'accompagnatore perfetto per chiunque affronti lunghi tragitti sia in italia che all'estero le mappe di tutta europa sono incluse e saranno costantemente aggiornate automaticamente il che significa che non dovrai mai preoccuparti di rimanere indietro con le informazioni sulla strada una delle caratteristiche più utili di questo navigatore è la capacità di fornire informazioni specifiche per i conducenti di camion ti segnalerà le aree di sosta e i parcheggi adatti così da non dover più perdere tempo alla ricerca di un posto dove riposare in basso nella descrizione del video trovi il link del prodotto grazie per la visione